Cari lettori, siete curiosi di sapere quali sono i film in tv nella prima serata di domenica 31 dicembre, che prendono vita dalle pagine dei libri? La vostra rubrica giornaliera è pronta a presentarli. Dal romanzo La carica dei 101 di Dory Smith, il film d'animazione La carica dei 101, anno 1962, in onda sul canale Rai 2 alle ore 21 e 20. Dal racconto La storia di Peter Coniglio di Beatrix Cotter, il film d'animazione Peter Rabbit, in onda sul canale Rai Gal alle ore 21 e 5. Faccio presente che il palinsesto potrebbe subire delle variazioni. Ora vediamo i dettagli. La trama del film La carica dei 101. Pongo è un cane d'almata che vive con il padrone nel suo appartamento di Londra e sente che è arrivato il momento di trovare una compagnia femminile sia per lui che per il suo padrone. La trama del film Peter Rabbit. L'irriverente personaggio creato da Beatrix Cotter è il protagonista di una fantastica avventura in live action che vede l'astuto coniglio alle prese con un burbero vicino di casa. Grazie per l'ascolto. Se sei un appassionato di adattamenti cinematografici tratti da libri, non puoi assolutamente perdere questa rubrica giornaliera. Ogni giorno troverai i film trasmessi in prima serata che prendono vita dalle pagine delle opere letterarie, offrendoti un'esperienza unica e coinvolgente. Ti invito gentilmente ad iscriverti al canale per non perdere nessuna novità e offrirti sempre nuovi spunti e consigli interessanti sul fantastico mondo dei libri. Un caro saluto.